Il nucleo di polizia tributaria di Arezzo nell'ambito di un'operazione di polizia internazionale ha sequestrato circa 27 kg di lingotti e lamine in oro puro privi di punzonatura identificativa relativamente alla provenienza per un valore di un milione di euro. Nei giorni scorsi sono scattate le perquisizioni e gli arresti Spagna, Portogallo, Italia e Slovenia con la partecipazione di decine di agenti nell'ambito dell'operazione denominata Iberia. Ad Arezzo sono state compiute numerose attività presso aziende e persone fisiche e in due occasioni, grazie alla perizia dei finanzieri, è stato trovato il metallo prezioso che era stato abilmente nascosto. L'aretino proprietario del tesoretto è stato arrestato in Spagna e gli sono stati sequestrati altri 50 kg di oro puro. Il sodalizio criminale che opera in territori iberi come capeggiato da cittadini residenti ad Arezzo fraudava il fisco spagnolo evitando numerosi versamenti dell'IVA. In particolare l'organizzazione facendo uso del classico sistema della cosiddetta frode carosello ha creato una fitta rete di aziende localizzate in tutta Europa operanti nei settori degli idrocarburi e dei metalli preziosi che opportunamente e strumentalmente utilizzate non versavano l'IVA dovuta mediante l'utilizzo di fatture false prodotte da società cartiere. La frode ha consentito all'organizzazione di non versare nelle casse dell'erario una somma che ammonta circa 20 milioni di euro. Gli accertamenti sul territorio italiano hanno infine messo in evidenza l'attivo coinvolgimento del sistema di frode di un'azienda retina che attraverso la vendita in nero di oro puro si prestava consapevolmente a riciclare i proventi della frode perpetrata nel territorio spagnolo.